La domanda è questa. Ciao, ho molti contenuti di seduzione attrazione, sono in un momento di confusione. Schematizzando, come potrei impostare un percorso per ripartire? Da quella che la tua domanda fondamentalmente risulta abbastanza evidente che non è ancora iniziato ad approcciare. Quindi il mio consiglio è quello di iniziare a smettere di leggere e semplicemente iniziare a approcciare o di giorno o di notte o entrambi. E non è che tu debba fare più di tanta fatica, nel senso che le informazioni sono già tutte disponibili. Per il giorno c'è Carpe Diem, per la notte c'è Carpe Night. Se vuoi approfondire ti lascio i due link in descrizione, ma entra in azione perché la tua confusione non se ne va andare leggendo articoli, guardando video YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Tu hai semplicemente bisogno in questo momento di un format preciso che ti dà le informazioni per superare gli ostacoli che in questo momento ti trovi davanti.